Ma questa partecipazione di R9 con la playa di Giulianova, te personalmente com'è che la vedi? Perché io la vedo veramente veramente bene, un faccia da radio soleggiato, un faccia da radio divertente, un faccia da radio a clima, non so, festivo, comunque in preparazione di eventi, così come ci sta per descrivere il nostro Mauro Bruni, benvenuto intanto. Grazie, grazie. Allora, noi parlavamo prima, giusto, quindi si vocifera di un evento fatto veramente in grande, fatto in stile The Club, fatto in stile R9, perché questa effettivamente è la nostra musica, quindi quella anni 70-80 che ci sarà proprio qui alla playa il 12 agosto, quindi tra poche settimane. Quindi insomma, siamo agli sgoccioli e ci stiamo più che ben organizzando, ci siamo già ben organizzati. Perché? Perché in realtà è effettivamente un evento promettente, un evento che, non so, la cui premessa è veramente veramente buona, se non altro a noi personalmente interessa parecchio. Quindi Mauro, descriverci un pochino meglio questo evento, parlacene un pochino più nei dettagli. Ma oggi diciamo che la musica 70-80 è tornata molto di moda, ci sono tanti locali che la fanno, eccetera. Noi qui avremo la fortuna di avere un dischi giochi che lo faceva già in quegli anni, cioè negli anni 70-80 lui già era uno dei migliori dischi giochi a livello Italia. Quindi comunque uno specialista veramente ai massimi, veramente di ogni frontiera, perché effettivamente musica anni 70-80, fatta poi tra le altre cose solo ed esclusivamente in vinili, qualcosa con tanto tanto stile. Sì, che poi diciamo se uno parla con un dischi giochi sa benissimo che fatta con vinili è più difficile, perché insomma va curato un attimino di più rispetto al cd che è più semplice, come io non entro nel merito perché non è il mio... Ma basta andare di parallelo per dire la radio di oggi, la radio fatta qualche anno fa, che andava registrata precisa su quell'attimo, in quel momento, devi inserire una pubblicità in più, devi registrare tutto da capo, quindi insomma una fatica che sicuramente viene riconosciuta in più rispetto a quello che può essere insomma qualcosa di più moderno. Beh, io diciamo che sotto questo punto di vista sono stato a Radio Luna a Teramo, ero il fonico, lavoravo 6-7 ore al giorno, 8 ore al giorno in radio. C'è il nostro Graziano che ti è particolarmente solidale in questo momento. E poi a quei tempi effettivamente era molto più difficile lavorare, perché le cose venivano... Oggi diciamo gli automatismi, l'elettronica sicuramente ha portato delle cose molto, diciamo, nell'esecuzione più facili da adoperare rispetto a quello che... un impigrimento, chiamiamolo un po' così, perché effettivamente è così. Comunque, tornando a questo dischi giochi, lui praticamente lavora con i vinili, ha circa un 5.000 dischi tra 33 giri e 45, e lavora con la varia Donna Summer, con i brani di quel periodo lì, che ancora adesso fanno ballare forse più di quello che no. Poi, lui è stato oltretutto, negli anni 80, studiò una cover dei Dobby Brothers, un disco che andò fortissimo. In quegli anni lì, due o tre dischi d'oro, ma soprattutto Francia, Germania, e sicuramente lo rifarà, lo rifarà, quella serata lo rifarà. Uno di quei successori, uno di quegli evergreen, che effettivamente continuerà a far ballare, continuerà a piacere a oltranza. Sicuramente, sicuramente. Quindi, noi effettivamente di aspettative ne abbiamo di meravigliose. Ora, io, in data, posticipiamoci, giusto? Teletrasportiamoci al 12 aprile, al... perché aprile? Non so che cosa ricorrerà, ma comunque al 12 agosto. Che cosa io, Valentina, io che fondamentalmente non ho voce in capitolo, io che vengo da spettatrice ben predisposta, che cosa mi aspetto? Ma, innanzitutto, il locale si presta molto, quindi consideriamo anche... Come in realtà sfondi una porta aperta, sono particolarmente innamorata della playa, per cui... Partiamo, prima di tutto, da un locale che è quello che è. Loro poi hanno organizzato una cena, una ricca cena, e presumo che intorno alle 11, 11 e mezza inizia Aurelio. Normalmente un tre ore le fa, e poi la serata continuerà ancora con qualche altro dischi giochi. Presumo che la serata sia questa qui. Però ti posso garantire che noi abbiamo già un riscontro precedente, la gente si è divertita veramente. Ma assolutamente, una location veramente meravigliosa, il cibo forse di più, musica veramente senza paragoni, io direi che effettivamente per questo 12 agosto possiamo ritenerci in anteprima soddisfatti. Io direi che, come diceva qualcuno un po' di tempo fa, provare per credere, no? Era una frase storica, e io penso che quella sia la migliore frase, cioè venite perché effettivamente la serata merita. Poi siamo insomma nel 12 agosto, siamo quasi tutti in ferie, bene o male, è un venerdì. Presumo che sia una gran bella serata. Io, diciamo, per quello che ho potuto sentire così, ma voglio dire, siamo ancora in fase embrionale, perché la stiamo organizzando adesso, c'è un ottimo riscontro. C'è veramente un ottimo riscontro, perché chi conosco, mi ha incontrato, dice la facciamo, la facciamo stasera, la facciamo, e tutti quanti l'aspettano. Quindi ha richiesto, quindi effettivamente più riscontri di questi, sarebbe difficile. Andiamo quasi sul sicuro, insomma. Adesso io non voglio esagerare, però diciamo che sono serate, che poi vale la pena perché si divertono tutti. Si divertono sia chi ballava questo genere di musica in quei tempi lì, poi non è che sono poi così distanti, sia chi magari è abituato a ballare con una musica più recente. Per cui i ragazzi di tutta l'età, secondo me, non avranno nessunissimo problema per quanto riguarda il divertimento, e se vogliamo considerare anche la bella cena che stanno preparando. Ma assolutamente sì, anche perché quello 70-80 è uno di quei generi che mette d'accordo un po' tutte le generazioni, quelli che comunque balleranno per inerzia, quelli che balleranno per ricordo, quelli che balleranno per provare. Per cui in realtà noi non vediamo l'ora di provare. E Mauro, ti ringraziamo infinitamente per la tua pazienza, il tuo tempo e il tuo sorriso, perché noi di Facce da Radio siamo particolarmente innamorati della musica, specie se si tratta di questo genere, quindi anni 70-80, che è proprio quello di R9. Per cui non vogliamo perdere altro tempo e ci ritroviamo tra pochissimo su queste frequenze.